Siamo a Tunisi, si è appena conclusa la conferenza conclusiva del progetto Mentor, un progetto che ha visto l'Anolf Piemonte come partner tecnico del Comune di Milano e del Comune di Torino, capofila del progetto e la partecipazione di Anolf Tunisia e Anolf Marocco. 20 ragazzi sono stati in Italia, hanno ricevuto formazione professionale in aziende piemontesi lombarde e ora sono rientrati e stanno mettendo in sua impresa e cercando occupazione nuova grazie a questa impresa. Un esempio di come si può lavorare, si deve lavorare sulle migrazioni, le migrazioni circolari, le migrazioni qualificate, le migrazioni che generano sviluppo locale. È una bella esperienza cui speriamo di dare seguito presto con una nuova fase che aumenti i numeri e aumenti i risultati. Per il momento siamo molto soddisfatti dei prodotti che abbiamo saputo generare, grazie all'apporto di tutti e grazie a un sistema di cooperazione decentrata in cui con le istituzioni lavorano la società civile e le associazioni come l'Anolf.